Anziani abbandonati, dimenticati, maltrattati da chi è pagato per prendersi cura di loro. Realtà che siamo costretti a raccontarvi sempre più spesso, ma per fortuna non questa volta. Anzi, merito di Alberto Del Bello, fotografo ma anche volontario per i giovani di un piccolo paese marchigiano, Torre San Pietrangeli e soprattutto direttore della casa di riposo Residenza Protetta San Francesco. Sua l'idea e la produzione di questo video. Gli auguri di Natale sono soltanto il pretesto per coinvolgere gli anziani della Residenza in una piccola ma preziosa esperienza cinematografica, figlia del suo laboratorio di videoterapia. Il sogno di Mario, uno degli ospiti della struttura, si trasforma in un tripudio felliniano di colori, suoni e danze portate sul set dai mercenari d'Oriente, compagnia scolana di Agrobati. Pubblicità Progresso non si è limitata al solo patrocinio, ma ha aggiunto il vivissimo applauso da parte del suo presidente. Ad ognuno di questi anziani è stato riconosciuto il diritto di essere non solo curato, ma sostenuto e soprattutto coinvolto.